Ciao ragazzi, di nuovo insieme, oggi vado a fare una specie di tutorial, anche se io non sono la persona più indicata per fare queste mega presentazioni di bassi o effetti però mi è stato chiesto, nel nuovissimo spazio che ho inserito nella pagina delle video lezioni sul mio sito, link qui sotto mi è stato chiesto da attempato, nickname della persona in questione, che mi ha scritto questo messaggio parola per parola sono deciso ormai da settimane sull'acquisto di un precision on jets, quindi si parla di Fende puoi dirci in base alle tue esperienze quale preferisci e quali sono le differenze maggiori tra i due grazie, sei il milione, vabbè questo lasciamo perdere, ringraziamente allora, come vi dicevo su internet ci sono migliaia, credo milioni di tutorial, come si dice di differenze tra vari bassi, tra cui anche tra il precision e il jets comunque, visto che mi è stato chiesto personalmente, mi butto anche in questa cosa e come sempre la faccio nel modo più semplice possibile allora, le differenze sostanziali sono, a mio avviso, parlo sempre per esperienza personale, che io sono stato un suonatore di precision di quelli accaniti proprio i primi anni della mia attività, che prima era un hobby, comunque i primi anni che suonavo, per me esisteva solo il precision e per tanti produttori di musica attuale hanno ancora questo asso, diciamo, che tirano fuori ogni volta che un turnista si presenta con bassi strani con suoni molto, diciamo, diversi dal vero suono del basso proprio e quindi lo tengono lì nello studio, ne conosco uno che lo fa, senza fare nomi e fa suonare quello a chi va a registrare le tracce perché il precision, diciamo che, anche come dice il nome, insomma, è una garanzia e oltre ad essere una garanzia è anche, credo, il basso più usato da quando esiste quindi 1951 cos'è che poi mi ha spinto più nella direzione, restando sempre su Fender, che per me è la miglior marca, esistete cos'è che mi ha spinto più col tempo sul jazz soprattutto la versalità di suoni che abbiamo con quel tipo di basso ve ne parlerò meglio dopo il precision, avendo un solo pickup questi pickup come ho spiegato bene nel mio manualino del setup diciamo, l'officina del basso elettrico hanno un loro sound preciso una loro identità precisa e quella, pur avendo poi fatto marche diverse la Seymour Dank, la Fender il di Marzio sempre con questa forma e quindi questo meccanismo il suono del precision ha sempre e comunque bene o male quella quella sfumatura di base quindi, ovviamente, come dico sempre poi le mani fanno la differenza il tocco, eccetera, eccetera però di base, di partenza ecco, qualsiasi precision possono cambiare appunto le sfumature e altro però il suono di base rimane sempre cioè, lo riconosco sempre nei dischi quando ascolto musica è proprio un'identità sua molto, molto forte questo, però, limita un pochino appunto le tipologie di suoni che abbiamo a disposizione e soprattutto in alcuni generi personalmente parlo sempre di una cosa personale lo trovo meno adatto lo trovo meno adatto rispetto a un jazz ad esempio, proprio riguardo al jazz quando suono jazz comunque stili musicali simili col precision avendo sempre solo appunto quel tipo di sound faccio più non lo trovo adatto invece col jazz avendo due pick up ora poi passeremo al jazz e quindi più suoni a disposizione lo preferisco vantaggi svantaggi allora qui si tratta di gusti personali allora il manico di un precision quindi standard senza andare a cercare cose modelli che io non conosco eccetera è più non so se il termine è giusto ma è più largo di un fan del jazz ovvero se si misura diciamo a questo spazio che c'è tra i due bordi diciamo della tastiera siamo su 42 mm per il precision contro un 39 mi sembra 39 del jazz quindi questo cosa vuol dire è come se suonassimo quasi un basso ora esagero un basso a 5 corde perché appunto il precision ci richiede più più estensione più movimento più più vasto diciamo così della mano uno stretching diverso rispetto appunto al jazz che è un po' più comodo soprattutto per chi magari comincia questo però non significa essere un vantaggio quello del jazz nel senso che io addirittura su un fan del jazz appunto monto un manico del precision che è questo qui proprio perché mi piace di più nonostante appunto possa sembrare più faticoso mi piace di più la ciccionosità del precision appunto del manico del precision appunto mentre per quanto riguarda i pick up mi trovo molto meglio con i jazz perché qui mi manca appunto l'appoggio per suonare vicino a ponte che per me è fondamentale e vitale quindi purtroppo il precision lo uso moltissimo allora poi registrerò una traccia per farvi sentire meglio i due suoni diciamo a parte le varie sfumature che si possono ottenere aprendo o chiudendo più un tono rispetto a un altro cosa stavo dicendo addio mi sono perso da cosa è composto questo basso in particolare è uno standard dei primi anni 2000 il body il manico è questo qui dov'è la telecamera e dietro è fatto così vedete che io non sono in grado di fare queste cose l'ho un po' modificato perché ci ho messo queste meccaniche dorate che a me piacevano tantissimo in stile un po' John Deacon che sono della Schaller o Scheller non so come si dice una marca tedesca come il ponte che è questo quindi non è l'originale Fender che costa ci vale il mutuo per comprarlo sempre lasciarle scherle e però ha questa meravigliosa invenzione che ci può far modificare lo sbattio tra le varie corne cosa che i punti normali non hanno le manopole uguale dorate per essere molto chic i pick up sono fan del vintage mi sembra e basta questo è preciso poi passerò a suonare qualcosa mentre il jazz profitto per farvi vedere quello che ho assemblato ultimamente quello che ho assemblato ultimamente diamogli anche un'accordatina come come dicevo prima la larghezza dei mani confluisce tanto quindi anche il modo di suonare impostazione dalla mano sinistra questo dovete essere voi a decidere quale è meglio in base alle vostre esigenze vostri gusti eccetera eccetera altre differenze sostanziali sono appunto anche riguardo all'elettronica qui abbiamo due pick-up single coil per tutti i discorsi tecnici non per farmi pubblicità ma ho fatto una una web apposta un libro su setup modifiche trovate sempre il link qui sotto quindi cambia è sempre un'elettronica passiva ma cambia diciamo un po' tutto il sistema ho quindi due volumi questa manopola regola il volume di questo pick-up che ha un suo suono questa manopola regola il volume di questo che ha un altro suono e questo è il tono posso anche aprirli tutti insieme appassionatamente e avere ancora un altro suono più particolare ancora per il resto appunto in questo modo ho l'appoggio per me è fondamentale perché suonando tantissimo in questa posizione l'appoggio del pick-up per l'appunto mi è troppo con quindi questo l'ho detto qui non c'è grandi cose nel senso fan the jazz lo potete trovare con i battipenna quando c'è uno scavo qui per far passare tutti i fili dell'elettronica oppure senza come in questo caso dove i fili passano sotto quindi non c'è bisogno del battipenna i ponti si possono prendere nemmeno troppi euro i vintage della fender che sono ottimi magari vi metto le foto e le corde io uso in tutte e due bassi così sentite bene la differenza rotosound swing 66 misura 105 45 perché ho detto questo perché magari poi si può dire sì vabbè ma lì magari c'hai le daddare non ho amplificatori io allora da questo cavo entro nella scheda audio che è qui c'è un mixer ma non lo uso la scheda audio e questo coso qui rosso che poi mi vanno in computer sicuramente questo tutorial non lo metteranno nelle pubblicità di Thoman non so se l'avete mai visto hanno una scenografia che io purtroppo non ho sono un po' più alla mano diciamo dai quindi cambia tantissimo il suono pur restando indubbiamente ho un'ape in casa poverina dopo la salvo pur restando sempre Fender quindi il timbro bene o male si è difficile da spiegare però è come comprare due modelli diversissimi di Ferrari però comunque è sempre Ferrari no? quindi mi sembra aver detto tutto mi sembra ah una cosa negativa forse questo è proprio l'oggettivo di un Jets rispetto a un Precision è proprio la rumorosità che hanno questi pick up quindi io ho risolto tantissimo con la schermatura anche qui vi rimando al libro sul setup che non è altro che creare una specie di gabbia una specie di isolamento dalle frequenze di telefonini computer masse messe a terra fatte male eccetera eccetera quindi disturbi che questi pick up captano tantissimo rispetto al preciso che è molto più silenzioso di base quindi questa è una cosa a mettere in conto soprattutto per chi è amante del basso super silenzioso io comunque come sentite ho risolto totalmente con con la schermatura non voglio schiacciare l'apre non la vedo più e quindi per me non è più un problema cosa monto sui miei passi monto in tutti e tre Jets pick up castoshop 60 castoshop 60 che li danno a coppia e vanno sulle 160 170 sugli altri passi appunto i punti vintage qui è uno standard chord rotosound e vi ho detto tutto quindi vado a suonare qualcosa prima con uno poi con l'altro così sentite bene il suono cercherò di fare le stesse cose semplici e poi ragazzi se avete altre richieste di tutorial rivolgetevi a Tomman o comunque a Scott Demain gente di questo calibro perché io come vedete i mezzi che ho a disposizione sono abbastanza limitati e anche le mie competenze per fare tutorial di questo tipo vado e ci vediamo al prossimo video a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.